L'Atalanta batte il Verona per 1-0 in una partita che oggettivamente è stata parecchio brutta ma ad agosto importa solo il risultato e il risultato ci dice che dopo tre partite si chiude il mese con 7 punti. Una partita ripeto complicata brutta da vedere ma che secondo me apparentemente presta troppo al fianco a critiche quando ci sono un sacco di motivazioni e un sacco di scusanti come al solito faccio alcune considerazioni ovviamente a titolo personale poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Sulla partita dicevo ci sono un sacco di scusanti perché è innegabile che l'Atalanta non ha giocato bene però è altrettanto vero che l'Atalanta in 90 minuti ha sperimentato più degli ultimi due anni sia da un punto di vista del gioco con questi lanci lunghi che nel primo tempo non hanno funzionato e poi quando invece è entrato Ederson su cui quest'estate si era lavorato hanno funzionato la grande tra l'altro che giocatore Ederson. Soppi sulla sinistra dove dovrebbe giocare a destra, Boga ancora sulla sinistra, Malinowski giocatore che il gasp dice di non vedere ma poi lo schiera per la seconda partita di fila. Kube Miners nel primo tempo obbligato a fare il lavoro di Freuler e quindi depotenziato poi spostato in avanti fa un gol e che gol. Passaggio alla difesa 4. Possiamo davvero dire che il mister durante questi 90 minuti ha sperimentato tantissimo ma è giusto così perché l'imminente chiusura del calcio al mercato impone valutazioni, impone scelte e le scelte si fanno su dei feedback. Quindi provare, capire, verificare e poi trarre le giuste considerazioni. Non intendo giustificare tutto perché l'apatia offensiva, la difficoltà di arrivare in porta non sono probabilmente figlie solo di determinate soluzioni di gioco però io credo che all'interno del giudizio tutti questi cambiamenti debbano essere assolutamente presi in considerazione. Per quanto riguarda le prestazioni mi è piaciuto moltissimo Coli, giocatore che nasconde benissimo i propri difetti ed esalta benissimo i propri pregi. Non si direbbe che è un giocatore neofita in Serie A, grande maturità e si è imposto molto molto bene nell'assetto difensivo. Così come, devo essere onesto, non mi è dispiaciuto Musso. Questa tre partite ha dimostrato di essere cresciuto, di essere migliorato in termini di affidabilità. Non è forse ancora il portiere incredibile che ci aspettavamo però io personalmente il miglioramento lo vedo. Ma vedo in generale un miglioramento totale nella fase difensiva perché è vero Gasperini dice a me la fase difensiva non piace, non sopporto di vedere la mia squadra difendere. Però è tanto vero che in tre partite abbiamo preso un gol, tra l'altro figlio anche un po' di situazioni fortunate e abbiamo sofferto reggendo benissimo la pressione. Non abbiamo più preso gol nei primi minuti, non accettiamo anche di essere un po' schiacciati ma rispondiamo egregiamente. Insomma ci sono tante cose positive come ci sono tante cose che vanno lavorate però onestamente io, ripeto, ad agosto mi accontento dei risultati. Per quanto riguarda le prestazioni oltre a Ocoli e Musso ovviamente vorrei citare Coopminers che ha fatto un grandissimo gol e l'impatto che ha avuto Ederson. Perché è entrato e ha fatto veramente vedere di che cosa stiamo, che giocatore abbiamo davanti, che cosa abbiamo comprato. Io penso che molti non se ne rendano conto ma a mio avviso questo è il vero colpo di mercato dell'Atalanta perché è un giocatore incredibile. Dati alla mano nel tempo che ha giocato ha fatto più di molti giocatori in tre partite a livello di incursioni, di tentativi. Deve inserirsi ovviamente, deve recuperare un po' la condizione però già Gasperini nelle sue parole l'ha fatto capire che su lui punta veramente veramente tanto. Giocatore che invece mi hanno convinto meno Malinowski ma sempre per il discorso della posizione non per l'individualità del giocatore che è fuori discussione. Onestamente mi aspettavo qualcosa di più da Muriel anche alla luce dell'acquisto di Eulundra. Cioè ti comprano una punta, giovane, 17 milioni, io mi aspettavo magari di vedere un po' più di voglia di dimostrare. Però lo sappiamo che lui è così, ci mette il tempo che ci mette e vabbè. E infine Attebor, giocatore che alterna buone prestazioni a momenti di grande difficoltà. Io non lo individuo francamente come il giocatore da cedere immediatamente come tanti dicono però mi rendo conto che fra Chiari di Luna è comunque anni luce rispetto a quel giocatore che ha dominato la fascia destra per anni. Bisogna da fare delle valutazioni, lo sapete anche voi, ci sono nomi, ci sono ancora tante operazioni in ballo la squadra di giovedì potrebbe essere radicalmente diversa. Vediamo che cosa sceglie la dirigenza, vediamo che cosa sceglie l'allenatore e poi commenteremo. Come al solito vi ringrazio, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!